Vibonati, Salerno, è stato siglato a Sant'Arsenio un protocollo d'intesa tra la Banca Montepruno e l'Associazione Villammare Film Festival, organizzatrice del Villammare Festival Film e Friends, per promuovere la cultura cinematografica e valorizzare il territorio di competenza dell'Istituto Bancario. Per la ventitreesimo edizione, che si terrà dal 22 al 29 agosto, è stato creato un premio speciale, sostenuto dalla Banca Montepruno, destinato a cortometraggi girati nel territorio di riferimento e con l'obiettivo di promuovere le bellezze locali attraverso il cinema.